Incendio in un condominio a Brindisi in salvo 5 persone bloccate negli appartamenti. Intossicato un poliziotto, grande lavoro dei Vigili del Fuoco per scongiurare il peggio. Nuovo assalto nelle sedi comunali di Brindisi. Nel fine settimana una banda ha asportato computer dalle delegazioni del centro e del rione Sant'Elia. Nel mirino dei malviventi gli uffici anagrafe, indagano carabinieri e polizia. L'ite tra vicini finisce in aggressione a San Pietro Vernotico. Un 74enne è stato colpito alla testa con il manico di un forcone ad aggredirlo un 27enne. Entrambi, insieme ad un quarantenne, un 22enne e un 15enne, sono stati denunciati. A Francavilla Fontana, dopo le polemiche in seguito all'adesione della Lega, il gruppo consigliare di Francavilla Popolare Luigi Galiano chiarisce ai nostri microfoni la sua posizione. La Virtus Francavilla conquista un buon pareggio sul campo della Sicula Leonzio, ma intanto in Serie C il probabile ritiro del Rieti potrebbe stravolgere la classifica. Il Brindisi crolla anche ad Altamura. Il 4-0 finale acuisce la crisi dei Biancazzurri, ora a un solo punto dai play-out. Non c'è alcun problema nella società del Brindisi Calcio, così l'associazione per Brindisi, organo di controllo del club, dopo le voci che sono diffuse in città negli ultimi giorni. In mattinata diffuso un dettagliato comunicato stampa. Lunedì 18 novembre, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale 100 notizie Brindisi che apriamo con la cronaca. Paura e apprezzione nella notte in via Cappuccini a Brindisi, dove un appartamento è stato distrutto dalle fiamme, il pronto intervento dei vigili del fuoco però ha scongiurato il peggio. Tanta paura e apprezzione. Sono le 22 circa di domenica 17 novembre. Scoppia un incendio in un condominio di via Cappuccini a Brindisi. Immediatamente, come raccontano queste immagini di BrindisiTime.it, intervengono i vigili del fuoco del comando provinciale per domare le fiamme divampate da un appartamento al quarto piano di uno stabile e per mettere in salvo le persone. Grande spavento in particolare per i residenti degli ultimi due piani a causa del fumo, che aveva reso irrespirabile l'aria nelle proprie abitazioni. Un vero e proprio incubo. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio. Inevitabile, come accade in questi casi, in ogni caso l'evacuazione dell'intero edificio. Sul posto la polizia e numerose ambulanze che hanno prestato soccorso a decine di persone intossicate. Bloccata anche la circolazione stradale in via Cappuccini. I vigili del fuoco hanno dovuto operare con l'ausilio di un braccio estensibile e il cestello per raggiungere cinque persone in tre diversi appartamenti. Nella casa del quarto piano, quella interessata dall'incendio, c'erano due persone e un cane. Ferito alla mano durante i soccorsi un poliziotto prontamente medicato dai medici del 118. La situazione è tornata alla normalità nel corso della notte. Nuovo assalto nelle sedi comunali di Brindisi. Nel fine settimana una banda ha asportato computer dalle delegazioni del rione Centro e del rione Sant'Elia. Nel mirino dei malviventi, gli uffici anagrafe indagano carabinieri e polizia. Il comune di Brindisi è ancora una volta nel mirino di una o più bande di ladri. Nel fine settimana infatti sono stati rubati alcuni computer dalle sedi del Centro e del rione Sant'Elia. Il primo furto ha riguardato la sede della ripartizione anagrafe che si affaccia in via Filomeno Consiglio, nel cuore del centro città. Un colpo studiato ma che probabilmente non ha assortito gli effetti sperati. I malventi hanno sfondato il portone d'ingresso e una volta all'interno hanno messo a soquadro gli uffici, forse nella speranza di trovare la cassaforte. Al momento il bottino è di due computer rubati, utilizzati solitamente per la realizzazione delle carte d'identità. La stessa scena si è ripetuta nella delegazione del comune aperta nel rione Sant'Elia in via Antonio Ligabue. In questo caso i ladri sarebbero riusciti a trovare la cassaforte ma non ad aprirla e anche qui sono andati via con due computer. Non è ancora chiaro se i due assalti siano stati compiuti dalla stessa banda, anche se tra i colpi ci sono diverse analogie. Sul posto i carabinieri e i poliziotti della scientifica. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le riprese di sistemi di videosorveglianza, interni ed esterni. Una scena simile si verificò un anno fa nella sede comunale di Palazzo Guerrieri e anche in quella circostanza furono asportati diversi computer. Resta da chiarire se l'obiettivo dei malviventi fossero davvero i PC, che ovviamente contengono anche dati sensibili, o sperassero di trovare altro. Le indagini dovranno chiarire più di qualche aspetto. Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di un trentenne di mesagne, che era stato sottoposto a perquisizione dei carabinieri del Norma e della compagnia di San Vito dei Normanni. L'uomo aveva sei dosi di marijuana occultate nelle mutande per un peso complessivo di 23 grammi. Sequestrato anche un coltello a serramanico. Nell'abitazione della stessa persona sono state trovate altre due dosi di marijuana, l'intesa con il pubblico ministero di turno. Il soggetto è stato dichiarato in arresto. L'ite tra vicini finisce in aggressione e ha rischiato seriamente anche di finire in tragedia. San Pietro Vernotico, un 74enne, è stato colpito alla testa con il manico di un forcone. Una maxirissa che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per il reato di rissa 5 persone di 74, 48, 27, 22 e 15 anni, tutti di San Pietro. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato 16 novembre, per futili motivi legati a passati dissidi tra familiari. I 5 si sono picchiati senza esclusione di colpi, utilizzando anche sassi e un forcone. Nella circostanza, il 74enne ha ricevuto un forte colpo alla fronte con il manico del forcone da parte del 27enne, finendo a terra e battendo la nuca. Ha perso subito molto sangue, facendo temere il peggio. Soccorso dei presenti è stato trasportato in ospedale in un'ambulanza del 118, immediato al ricovero al perrino di Brindisi. Le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza da parte delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire con certezza la dinamica dei fatti. Sul posto è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro l'attrezzo utilizzato per l'aggressione. In 5 adesso sono finiti nei guai. I carabinieri della Compagnia di San Vito e Normagna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Latiano, incluse periferie, nelle aree rurali limitrofe, con l'esecuzione di posti di controllo e perquisizioni. Due persone denunciate dai militari, un 64enne di Latiano, sorpreso alla guida di un'auto privo di patente, perché mai conseguita, e un ventenne, anche gli di Latiano, sorpreso alla guida di un'auto in stato di alterazione psicofisica, risultato positivo al test con l'etilometro. Nel complesso i carabinieri hanno effettuato sei perquisizioni, 55 le auto controllate con 92 persone identificate, di cui 25 di particolare interesse operativo, 17 soggetti monitorati, sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, elevate anche 12 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per l'incolumità pubblica, per la somma complessiva di 5.300 euro segnalati infine alla prefettura, due giovani trovati in possesso di dosi di marijuana per uso personale. Lasciamo la cronaca, almeno per il momento, ci occupiamo di politica spostandoci a Francavilla Fontana, dopo le polemiche in seguito all'adesione della Lega al gruppo consigliare di Francavilla Popolare, Luigi Galiano chiarisce la sua posizione. Filippo Melillo. La scelta del consigliere comunale Luigi Galiano, Francavilla Popolare insieme, di formare con la collega Adriana Balestra, Lega, un nuovo gruppo consigliare, non è stata pienamente condivisa da tutti coloro che con le liste civiche hanno sostenuto Maurizio Bruno alle ultime amministrative. In particolare la più significativa è arrivata dallo stesso segretario di Francavilla Popolare, Pietro Di Costa, e dall'imprenditore Mimmo Bianco, che non guardano certo la Lega come prospettiva politica. Galiano è comunque certo del chiarimento e ci tiene a sottolinearlo. L'adesione di Adriana Balestra con il suo partito della Lega al gruppo consigliare da me rappresentato in consiglio comunale è in realtà, così è e così rimarrà. Semplicemente il segretario, l'amico Piero Di Costa, che era e sarà per capirci perché questa tiritela di comunicati, ci siamo visti già questa mattina, deve finire immediatamente perché non abbiamo litigato, non c'è nessun tipo di problema. E come è normale in tutte le famiglie c'è una diversità di vedute. Galiano è Francavilla Popolare, quindi c'è una cosa che sicuramente non esiste. E quindi abbiamo scritto due righe, ritengo in modo altrettanto garbato, in cui i candidati di Francavilla Popolare alle ultime elezioni amministrative, che ricordo è il primo partito di Francavilla Fontana, che mi onoro di rappresentare dentro e fuori dalle istituzioni, ha confermato assoluta vicinanza a me e che quindi condividono questo percorso, questo percorso che andrà avanti, certo poi evitando comunicati e altre storie del genere, al nostro interno sicuramente riusciremo a ricucire, a parlare con Piero, con Mimmo e chiariremo, ma in casa, spero tanto, questo piccolo problema. Ripeto, non è successo nulla, non è successo. Da martedì 19 a giovedì 21 novembre il sindaco di Francavilla Fontana, Antonio De Nuzzo, sarà tra i sindaci delegati con diritto di voto al Congresso Nazionale del Lanci, che si svolgerà ad Arezzo. Lanci, Associazione dei Comuni Italiani, è presente sul territorio nazionale da oltre 100 anni e raccoglie oltre 7 mila comuni rappresentativi del 90% della popolazione. Nella cerimonia inaugurale parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In una fase storica, particolarmente delicata per le nostre città, ha dichiarato Antonello De Nuzzo, il Congresso Anci rappresenta un momento di incontro e confronto fondamentale tra noi sindaci e gli altri livelli istituzionali. Sono onorato di rappresentare la città di Francavilla Fontana, ha dichiarato il primo cittadino, e la Puglia in questa assemblea che non a caso vedrà presenti le più alte cariche istituzionali del Governo e dello Stato. La CGL esprime preoccupazione per le scelte in ambito di integrazione per gli immigrati adottate anche in provincia di Brindisi e tende la mano alle categorie meno deboli e in particolare agli immigrati del nostro territorio. Gli episodi sempre più gravi accaduti in questi ultimi mesi, insieme a frequenti atteggiamenti di intolleranza razzista che sfociano a volte in veri e propri episodi di violenza, sono il termometro di un reale e crescente malessere sociale che trova immediato riscontro in una situazione di sempre maggiore incertezza e grande preoccupazione per il futuro di fasce sempre più ampie e persone. Così la Fly CGL di Brindisi che in una nota sottolinea situazioni talvolta amplificate da stampa e televisioni che disegnano gli immigrati quasi sempre come una minaccia per il sistema paese e per la civile convivenza, utilizzata spesso dal Governo per assumere pretestuosi provvedimenti che mirano a dividere sempre più italiani e stranieri. La perdurante e lunga crisi economica finanziaria globale che il mondo sta vivendo con la porosa crescita di spinte protezionistiche che possono sfociare nel tempo anche in atteggiamenti xenofobi, gli indiscriminati tagli allo stato sociale, la sempre minore insufficienza dei salari accentuano le paure e le divisioni che purtroppo interessano in special modo gli stati sociali meno tutelati dal sistema. Oggi più che mai risulta necessario che la società civile e democratica lavori affinché si mettano in campo fregnanti politiche di integrazione che favoriscano la convivenza civile e la solidarietà. In questo contesto si inserisce il grande lavoro svolto dalla FLAI e dal patronato Inca di Brindisi, l'ufficio immigrazione e tutto il sistema dei servizi della CGL. Il tutto trova riscontro dai dati statistici che FLAI, Inca e CAF hanno reso più volte noti e certificati dai vari ministeri, sia a livello regionale che provinciale. Questo grazie all'impegno profuso da tutta l'organizzazione CGL, ma soprattutto va registrato un ampio grado di soddisfazione degli stessi immigrati che si presentano nei nostri uffici di Brindisi e della provincia di anno in anno, in numero sempre crescente, che ha permesso di stabilizzare nel tempo un rapporto fiduciario con le organizzazioni sindacali. La FLAI, rinnovando e confermando il suo impegno quotidiano, assieme a tutto il sistema di tutela e servizi della CGL, garantisce assistenza, tutela e consulenza gratuita a tutti gli immigrati e non che quotidianamente si rivolgono e si rivolgeranno ai nostri sportelli, particolarmente in questa prossima campagna di presentazione della domanda di disoccupazione agricola. I dipendenti del Comune di Cisternino non percepiscono la retribuzione accessoria che costituisce parte della retribuzione prevista dal contratto nazionale del lavoro a titolo di incentivo alla produttività dei dipendenti. Per questo motivo le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale. A renderlo noto la segreteria territoriale FIP della CGL di Brindisi in una nota inviata agli organi di informazione. Santa Claus, Babonatale, sta per arrivare a Brindisi e sarà accompagnato da suo fratello gemello Ambrogio. L'appuntamento è per giovedì 21 novembre alle ore 16 sul lungomare Regina Margherita. Arriveranno entrambi a bordo di uno dei rimorchiatori dei fratelli Barretta e ad attenderli ci saranno bambini oltre che le principali autorità. I due Santa Claus poi accoglieranno da mezzogiorno a mezzanotte nell'ex convento delle scuole PIE, nel cuore del centro storico cittadino, tutti i bambini e le loro famiglie. L'ingresso è gratuito e l'organizzazione consiglia di visitare la loro casa negli orari previsti. L'evento rientra nell'iniziativa Brindisi Città del Natale 2019, organizzata dall'associazione Events e Promotion di Roma in collaborazione con il comune di Brindisi sotto la direzione di Antonio Rubino Organizzazioni e con il patrocinio della Regione Puglia. Il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia, molte famiglie, soprattutto il sud Italia, hanno l'usanza di allestire l'albero di Natale e mangiare pettole accompagnate da buon vino. A Brindisi apriranno così i primi mercatini di Natale sotto la neve artificiale che, in assenza di quella naturale, calerà copiosa da piazza sottile. È qui che la gente potrà acquistare gli addobbi che adorneranno i propri alberi. Tutto questo sino alla mezzanotte, poi di domenica 24 novembre, ma tante le iniziative che continueranno per un mese e mezzo a cura di associazioni locali e di categoria. Media partner dell'evento Studio 100 TV. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, l'ina Valla Regia, curata oggi dalla sede di Brindisi da Dario Spagnolo, poi un'ampissima pagina dedicata allo sport. Siamo allo sport, il calcio iniziamo dal campionato di Serie C, un buon pareggio per la Virtus Francavilla sul campo della Sicula Leon, si è finita 1-1 in una giornata particolare per il girone C, perché segnata da quanto accaduto tra Rieti e Regina, la crisi del Rieti con i giocatori che si sono rifiutati di scendere in campo e poi il veto della Lega che ha bloccato i laziali in quanto l'allenatore che avrebbe dovuto sostituire il tecnico del Rieti in realtà non aveva i requisiti per scendere in campo e dunque adesso il Rieti sembra un passo con le nuove normative, soprattutto alla esclusione dal campionato che potrebbe riscrivere completamente la classifica. Questo comunque è il quadro completo della quindicesima giornata, Monopoli Biceglie nell'anticipo 2-1, il Monopoli si conferma la squadra più in forma del momento. Casertà Navellino 2-0, a Pagani la vittoria del Bari 1-0, il Rende batte il Picerno 1-0, la Regina vince a Tavolino 3-0 contro il Rieti, la gara non si è mai disputata, 1-1 tra Sicula Leonzio e Virtus Francavilla, 1-1 tra Teramo e Ternana, il Potenza batte la Vibonese 1-0, infine a Viterbo la vittoria della Cavese di Campilongo 1-0, infine nel posticipo di ieri sera il Catanzaro che ha battuto 3-0 il Catania per una classifica che dopo 15 giornate, ma ribadiamo potrebbe cambiare già dalla prossima settimana se dovesse esserci come probabile il ritiro del Rieti perché sappiamo che con il ritiro nel girone di andata vengono invalidati tutti i risultati delle squadre che hanno giocato con la formazione che rinuncia poi alla partecipazione, mentre vengono confermati se il ritiro avviene dopo il girone di andata e dunque nel girone di ritorno. Non so se abbiamo anche la classifica del campionato di Serie C, no? E allora vi ricordo che anche di Serie C e del caso Rieti parleremo alle ore 15 e alle ore 21 in di calcio la nostra trasmissione regionale dedicata alla Serie C e alla Serie D. Passiamo al campionato di Serie D, il Brindisi sempre più in crisi, crolla anche ad Altamura, finisce 4-0 per la formazione di casa. Comincia con una sconfitta la gestione, Salvatore Ciullo sulla panchina del Brindisi continua invece a collezionare Vittorio e Casalinghe il team Altamura di Alessandro Monticciolo. Terza affermazione interna consecutiva per i murgiani che applicano ai messapici lo stesso trattamento, riservato in precedenza a Nocerina e Cerinola. Questa volta però il risultato è netto ed inequivocabile, finisce 4-0 per i padroni di casa che balzano a quota 16 punti in classifica, perfezionando proprio il sorpasso ai danni dei Brindisini. Merito di una super ripresa per gli uomini del presidente Michele Calia. Team Altamura senza l'infortunato Polidori e con 2-2001 nell'11 di partenza, chiavi dell'attacco affidate a Tedesco e Dorato. Gli ospiti replicano con un 4-4-2 in cui i principali terminali offensivi sono Ancora e Montaldi. Vento forte prima e pioggia poi condizionano la contesa. Murgiani, pericolosi dopo 7 minuti, ci prova Tedesco servito da Guadalupe ma Escu salva i suoi. Dorato di testa alza troppo la mira, replica il Brindisi con un tentativo di Ancora bloccato da Guido. Azione Corale Biancorossa poco dopo la mezz'ora, Cassiello Pennella, Dorato in corna, la Cerinola in reattivo e si rifugia in angolo. L'ultimo sussulto della prima frazione delle V bianche ma Marino pecca in precisione. Equilibrio tra le due contendenti e niente rete all'intervallo. La musica tuttavia è totalmente diversa nel corso della ripresa che si apre proprio con il vantaggio degli Altamurani. Fontana disegna il cross, Tedesco colpisce di testa in maniera bella e soprattutto efficace. 1-0. Gli ospiti provano a reagire. Zappacosta calcia sul fondo, idem poco dopo Marino. Dalla parte opposta invece colpisce la squadra di Monticciolo. Fallo di Escu sudorato in aria per l'arbitro a rigore e Guadalupe trasforma magistralmente. 2-0. Reagisce con tre tentativi il Brindisi. Montaldi calcia, Gregorio mette in corner. Per conclusione dal limite di Marino centrale e facile preda di Guido. Lo stesso Montaldi poi non sfrutta una buona chance da posizione interessante. Cinico e spietato si rivela invece il team Altamura. Cassiello, servito da Dorato, trova l'opposizione di La Cirignola che nulla può però sulla successiva conclusione di D'Agostino. Tris completato insomma, che diventa anche poker a 13 minuti dal novantesimo quando Gregorio insacca sugli sviluppi di un angolo battuto da Lucchese. 4-0. Vittoria netta, risultato che non ammette repliche. I Murgiani continuano a fare cose eccellenti in casa e ora saranno chiamati a sbloccarsi anche nel formato trasferta. Domenica c'è il Foggia lo Zaccheria. Seconda sconfitta di fila e settima partita consecutiva senza vittoria per il Brindisi. La zona play-out ora è distante una sola lunghezza. Dunque questa è la cronaca del collega Mario Borracino. Situazione delicatissima diciamo in casa Brindisi. È ovvio che le responsabilità non possono essere addebitate al nuovo allenatore Salvatore Ciullo. C'è decisamente qualcosa che non va in città. Si rincorrono le voci. A tal proposito c'è stato questa mattina un comunicato stampa diramato dalla Associazione per Brindisi che di fatto è l'organo di controllo che deve garantire tutti i tifosi. La per Brindisi ha chiarito che non ci sono stipendi o comunque rimborsi arretrati e che non esistono problemi all'interno della società. L'Associazione per Brindisi ha emesso un importante comunicato stampa in qualità di organo di controllo della società del Brindisi Calcio facendo chiarezza su diversi punti in questo delicato momento della squadra. Nel comunicato si legge l'Associazione facendo seguito alle numerose rimostranze da parte dei tifosi riguardo gli ultimi risultati negativi ottenuti dalla squadra intende acquietare gli animi sul reale status societario. Fa presente infatti che vivendo all'interno le problematiche di gestione della società ha avuto modo di appurare che i soci profondano grande impegno sia in termini economici che di tempo sottratto alle proprie famiglie. Tant'è che avendo riscontrato nei giocatori che compongono la rosa un calo sia mentale che fisico oltre che a numerosi giocatori spiegabilmente infortunati, gli stessi soci all'unanimità hanno deciso di provare a dare una svolta ad una situazione che non rispecchiava più quanto programmato ad inizio campionato. Per questo motivo è stato deciso di sostituire il pur bravo allenatore ed alcuni operatori dello staff tecnico. Ovviamente coloro che sono subentrati hanno ora bisogno del giusto tempo per riorganizzare la compagine e dare vita alle proprie idee. Per quanto concerne poi eventuali ritocchi per migliorare l'attuale rosa dei giocatori come in ogni anno sportivo si deve attendere il mese di dicembre. Questione stipendi. In base agli accordi presi specifica la perbrindisi con gli stessi giocatori tutti sono in linea con quanto concordato anche perché la maggior parte di loro ha goduto di lauti anticipi in fase di ingaggio. Riguardo la copertura delle quote societarie si conferma se ce ne fosse ancora bisogno che la VNV di Vangone e Vertolomo ha ampiamente versato per la dovuta percentuale ogni qualvolta si è resa necessaria la copertura così come ha onorato il dovuto della passata stagione. La compagine societaria brindisina invece prosegue l'associazione per brindisi da parte sua sta cercando di rafforzarsi economicamente con un ingresso che sia ben accettato da tutti. L'associazione per brindisi in qualità di organo di controllo della SSD Brindisi Football Club in questi anni ha sempre cercato di contribuire alla risoluzione dei vari problemi ed è per questo in conclusione che si sente di rassicurare tutti i tifosi del brindisi. I risultati fino ad oggi ci hanno sempre dato ragione e anche in questo momento un po' buio per i risultati in campo siamo certi che i soci tutti si stringeranno insieme e più solidali di prima per venire fuori da questa delicatissima situazione. Remarli contro, proseguela per brindisi, sarebbe poco conveniente ed è stabilizzerebbe un ambiente che ha bisogno di rimborcarsi le maniche. Dopo l'affermazione in Coppa Italia sul campo della Savoia vince ancora anche in campionato il Fasano sempre più rivelazione di questo torneo grazie a questo calcio di rigore trasformato dal solito Corvino 1-0 contro il Gravina e Fasano che resta nelle zone altissime della classifica. A questo punto non può essere più considerata una sorpresa la compaggia allenata da mister La Terza che ambisce senza se e senza ma ad un posto in zona playoff. Vi ricordo ancora ogni lunedì alle 15 e alle 21 di calcio con tutti i servizi del girone H di serie D. Vi aspettiamo dunque anche in questo doppio appuntamento oggi con Gianni Sebastio. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale parte tecnica curata da Dario Spagnolo e Alessandro Colabito. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.